E io nel mentre Adesso avrò la reaction in live Perfetto raga possiamo arrivare a 110 Poi però chiudo per l'obiettivo Perché non è che posso continuare a vita Sono in un momento di curiosità raga Quindi mi sono bloccata Marco te l'ho detto Appena chiudo la live te lo mando in chat Anche io sono curiosissima E sono in attesa No raga io Sono una persona troppo curiosa nella vita Ve lo giuro divento matta Dove mi è scritto? Su whatsapp? Mi devi scrivere su whatsapp Perché su tiktok Ah no aspetta scherzo Forse riesco perché Ho il tablet Ah ok Non ho il telefono Aspetta Come cavolo si vedo? Ah ok Aspetta Ma stai scherzando? In che senso? Ma cos... No aspetta Non posso parlare Aspetta Sto pensando A come Ma Oddio come posso Ma Cioè Nel senso proprio Vabbè in realtà Nessuno può capire Nel senso proprio di denuncia Non so se io Mentre sto leggendo dal tablet Le risposte Ma quindi C'è proprio denuncia? Ma Cioè Scrivimi in chat Come si chiama? Che tanto Cioè Nel senso Non è che Chi se ne frega La conosco? O posso conoscerla? Ah Devo accettarti Che se no Non mi puoi più scrivere Ok Ti ho accettato Perché se no Non so perché Da tre messaggi Non ti fa scrivere Quindi se hai scritto qualcosa Non devi riscrivere Domanda 1 Denuncia proprio Domanda 2 Come si chiama? Ho messo in live La mia Cioè Ho messo in pausa La mia live Per questo scandalo Basita io Ma no ragazzi Non è perché Accetto tutte le persone Che mi scrivono qua È un mio amico Quindi capito Ma io Basitissima Ma che cazzo E mo Cosa devi fare? Ma che cazzo No Ma non è che ho dubbi Cioè Ti credo Ci mancherebbe Ma c'è Ma c'è Quando è che è successa Questa roba? Ah ragazzi Siete tutti curiosi Sì sì Ok Ok Va bene Tranquillo E ci vanno Da 6 mesi E quando finisce La cosa? Cioè nel senso Quanto manca Sì sì No questo profilo è nuovo Quindi Sì quello è vero Sì ma questo profilo è nuovo Tanto Poi il mio profilo Di TikTok cambia Un giorno sì L'altro pure Mi spezza Perché in questa live Io sto parlando Rispondendo A un mio amico E c'è La gente che entra in live Adesso Penserebbe che io Sia ritardata Cioè Forza Non può pensare altro Non sono pazza Raga Oddio Che scandalo No Sono scioccata Io Per io Sei bloccato Ok Ma ancora Non ho 26 anni Come non l'hai rispettato Infame Ne ho 24 Non ti ricordi Neanche quanti anni ho Oh Non sono giovane Ancora Raga mi spezza Cioè mi sono proprio persa Perché sono basita Non riesco più a fare Una live seria Dunque raga Probabilmente a breve Si impallerà Perché sto facendo Una cosa Al profilo Quindi probabilmente Se a una certa Non vedete più Il profilo Non sono pazza Comunque Quanto fa strano Vedermi mamma Sto parlando sempre Con il mio amico Raga in live Ma sembro pazza Adesso torno seria Arrivo Comunque Non ti fa stranissimo Vedermi mamma Ok amici Torno seria Comunque Si ho visto Che siamo a 110 Arriviamo a 120 Perché poi raga Devo chiudere Perché a breve Ryan si svederà Quindi Hey Ryanino Bello Il mio baby Bellissimo Comunque ribadisco Raga Se una certa Non vedete più Il profilo È tutto normale Sto facendo una verifica Non ho capito Perché sinceramente Devo capire Una roba Che devo verificare Devo ricordarmi Che dicembre Ne faccio 25 Che mi viene la morte Ok raga Basta scusatemi Basta scusatemi Basta scusatemi Ora ci sono Nel mentre ti rispondo Su tiktok Comunque raga Niente Arriviamo a 120 Mi raccomando Nel mentre raga Vi ricordo sempre No si è bloccato tutto Perché Dai Ok raga Vi dicevo Vi ricordo sempre Che vi aspetto Sul mio Offino Raga Lo trovate In super super promo Ancora per Pochissimi Minuti Adesso Vi lascio qua Fissato Come mi chiamo Sul mio Offino E vi ricordo E vi ricordo raga Che Avete Gli ultimi 6 minuti Per accedere In super promo E in più Trovate anche Il mio Nuovissimo Contenuto In super promo Questo qua È il mio nome Abish Scritto esattamente Così Tutto Minuscolo 3S Vi aspetto Lì Accedete Ora Mi raccomando Ok raga Scusatemi Che avevo avuto Un attimo Di Defaianza Comunque raga Arriviamo A 120